Quello che vedete sempre che vengono nei negozi, noi abbiamo delle cartelle, delle cartelle di canali che se ne prendono tanto e che i libri non si prendono sempre in cantera ma si prendono anche delle bocchette di scuola. E quindi, come presto a essere prima, inserete tutti gli elementari e dopo vi vengono le cartelle che dovete vedere, noi venderemo le cartelle che dovete vedere prima di noi. Quindi subito ci troverete i quaderni in italiano, questo caso è un italiano, e questo è un italiano. Questo rosso invece è di matematica e qui i quaderni invece non hanno neppure parti loro e ci sono qualche piante. Poi c'è questo, che è 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 questo, con il quaderno, sono grandi. E poi abbiamo un altro quaderno, che è il quaderno, dove dentro... Allora, questo qui invece vi informa tutto, dove quando le maestre vi daranno gli avvisi, quindi invece che voi darei vostri segnitori, vi dovete attaccare qua. Oppure, se voi creditori devono comunicare riguardo alle maestre, lo scriveranno qua sopra e poi voi dovete far vedere le maestre, così loro saranno informati nei punti del posto. Tra le maestre, qui, 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 qui. Grazie mille. Grazie a tutti.